Uomini e donne, Anna Tedesco, ecco il vero motivo per cui ha lasciato Ued Over L'ex dama del parterre senior si è sfogata a tutto tondo sulla sua partecipazione a Ued Oltre a Gemma Galgani, una delle dame più rappresentative del trono over sicuramente è stata Cancelletto Anna Tedesco. Questultima negli ultimi anni ha avuto diverse frequentazioni all'interno di Cancelletto Uomini e Donne, ma quella avuta col gabbiano Giorgio Manetti, ha suscitato più polemiche Ultimamente i due protagonisti del parterre senior, hanno ribadito più volte di essere rimasti in buoni rapporti Ma, alcune settimane fa, questa conoscenza è stata messa in forte discussione dal cavaliere Angelo che, senza giri di parole, ha accusato la dama di avere un tresca amorosa con l'ex della Galgani Questa tesi è stata sostenuta anche dall'opinionista Gianni Sperti, il quale più volte ha affermato che i due nascondono qualcosa. Ma la situazione è degenerata quando in studio è arrivata Federica Piri, un'ex dama del programma Questultima, nel corso di una puntata, ha svelato che Anna le avrebbe confidato degli incontri segreti col Manetti e che addirittura si sarebbero scambiati dei baci. Tutto questo mentre la tedesco frequentava ancora il messinese Nino Castanotto L'ex dama ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne Ovviamente queste forti accuse hanno turbato Anna, al punto di aver abbandonato per sempre il trono over. A distanza di circa un mese, la tedesco ha deciso di raccontare la sua verità attraverso un'intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine L'ex dama ha affermato che si è ritirata dal programma perché sul suo conto sono state dette troppe cose inesatte Poi ha ribadito che i baci che si è scambiata con Giorgio risalgono a tre anni fa e sono avvenuti tutti all'interno del contesto televisivo Quindi ha precisato che tra il gabbiano e lei non c'è stato nulla perché non è scoccata la scintilla. Per quanto riguarda la Piri, Anna, molto tranquilla, ha detto che è la sua parola contro la mia. I motivi del suo addio Nel corso della lunga intervista al magazine, la tedesco ha rivelato il vero motivo per cui ha lasciato la trasmissione della De Filippi. La donna ha affermato che si sentiva molto demotivata e che nessun cavaliere presente nel parterle interessava All'inizio si sentiva a suo agio, ma poi con l'arrivo della Piri e le dichiarazioni che ha fatto in studio su di lei, la tedesco si è risentita Inoltre ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico alle corde vocali e faceva molto fatica ad interlocuire Infine ha accusato Federica di essere falsa, perché loro due non sono state mai amiche, anzi, non la sopportava perché il cavaliere toscano l'aveva allontanata preferendo l'ex dama Umbra